Si sono definitivamente dissociati dai loro amici e dopo le 280 ore a testa di volontariato hanno chiuso la loro vicenda processuale. È stata così scritta la parola fine nel processo contro Enrico D'Antonio e Federico Bassetti, i due trentenni aretini accusati di aver depistato le indagini sulla morte di Martina Rossi, la studentessa genovese caduta dal balcone di un hotel durante la vacanza alle Baleari il 3 agosto 2021, mentre fuggiva ad un tentativo di stupro. Per la sua morte sono stati condannati a tre anni per tentata violenza sessuale altri due giovani aretini, Alessandro Albertoni e Luca Vanneschi. Enrico e Federico non erano presenti nella stanza in cui è avvenuto l'incidente ma si trovavano con le amiche di Martina. In seguito alla tragedia non avrebbero facilitato l'accertamento della verità. Durante l'udienza i due imputati hanno letto una lettera Siamo finiti in una cosa più grande di noi e siamo pentiti se abbiamo arrecato dolore e i familiari di Martina hanno detto In questi anni abbiamo a lungo pensato a quel che accadde e non abbiamo più nulla a che fare con le persone coinvolte nella tragedia. Erano stati i genitori di Martina, Bruno Rossi e Franca Murialdo a chiedere che i due chiedessero scusa davanti a loro.